In questi giorni c'è stata l'elezione dei nuovi organi direttivi di Asso Comunicazione che ha visto eleggere Massimo Costa come Presidente di Asso Comunicazione. Un tuo parere in merito e poi, perché è giusto citarlo, proprio quello delle rilevazioni del sistema Audi è uno dei punti del programma del Presidente della Consulta in media Eugenio Bona che quindi insieme ad Asso Comunicazione dovrebbe spingere nei confronti dei clienti questo nuovo atteggiamento. Tu che giudizio dai di questo nuovo corso, anche se è appena iniziato quindi i fatti devono ancora dimostrarsi, verificarsi, ma insomma che idea ti sei fatto di questa nuova leadership di Asso Comunicazione alla quale, precisiamo, tu appartieni quindi anche tu hai votato e cosa ti aspetti? Mi aspetto tanto, infatti appunto la prima cosa che ho fatto è andare a votare anche se ero nel pieno di una riunione internazionale ma credo che tutto parta anche da quello dal coinvolgimento di tutti appunto su queste che sono sfide che riguardano tutto il mercato e quindi ci aspettiamo tanto e credo che Costa rappresenti effettivamente il profilo ideale di chi sta da protagonista nel mondo della comunicazione e da chi ha dimostrato di saper intuire quelle che sono modalità importanti per coinvolgere i clienti e ottenere dei risultati importanti e quindi ovviamente la sua candidatura che è stata poi voglio dire suffragata praticamente dalla totalità dei votanti rappresenta proprio la speranza mutiamo anche questa parola ogni intanto di vedere appunto attraverso la sua energia, la sua esperienza, anche il suo carisma finalmente non soltanto annunciati questi argomenti se non solo le mie interviste ma quelle di tutti i colleghi li abbiamo in qualche modo girate in tutte le salse e alcune sembrano delle repliche quindi li sappiamo quali sono i temi adesso è importante affrontarli con energia e determinazione io credo che Costa in questo senso possa e io l'ho detto ieri debba assolutamente farlo rimaniamo in argomento il tema della remunerazione anche qui cioè sempre buona nel suo programma afferma che occorre ridare il giusto valore al vostro mestiere di media però qui entriamo anche in un argomento un po' complicato, complesso anche perché il sistema di remunerazione delle agenzie media è viziato per così dire anche dal discorso che anche questo abbiamo affrontato più volte dei diritti di negoziazione dove alla fine non si capisce bene chi paga chi è a fronte di che cosa quindi ridare valore al vostro mestiere significa anche però fare un po' di chiarezza ma sì significa fare un po' di chiarezza ma anche voglio dire uscire da questo loop nel quale negli ultimi anni comunque ci siamo trovati cioè del fra virgolette peccato originale dei DN che provocano comunque come se fosse una cosa che le agenzie si debbano vergognare quindi un po' dicono un po' nascondono io sono sempre stato per la trasparenza quando ero cliente tanto più quando sono passato dall'agenzia il problema dei DN è un problema nel momento in cui i DN sono la principale fonte di remunerazione dell'agenzia non credo che questo al di là del fatto che appunto di come sono nati del perché sono nate più o meno sulla base appunto di esigenze reali non credo che però possa essere effettivamente un terreno sul quale poter partire, crescere e avere la possibilità di essere valorizzati dal cliente come il vero interlocutore il problema però ha tre protagonisti il mondo delle concessionarie, le owner media, le agenzie e i clienti nessuno può pensare di risolverlo da solo né contro tantomeno una delle parti e mi stupisce nonostante che abbia 30 anni di esperienza ancora che non ci siamo davvero seduti intorno a un tavolo ma davvero non tanto per risolvere ma prima di tutto per affrontarlo in maniera serena è un fatto che non c'è dubbio che se oggi qualcuno dice se non esistono più i DN le agenzie vanno a casa quindi stai dicendo che il sistema delle agenzie media si tiene in piedi oggi grazie a DN cioè senza DN le agenzie media di fatto chiuderebbero per questo penso che la maggior parte delle agenzie media abbiano più del 50% del proprio revenue attraverso i DN questo è un fatto che ormai anche i nostri clienti sanno e che quindi voglio dire fa parte appunto della trasparenza eccetera il fatto è che a questo punto forse vale la pena come recuperare una forma di retribuzione che sia totalmente pagata dal cliente come sarebbe giusto però il cliente deve avere un valore da questo deve riconoscere il valore quindi insomma anziché essere il gatto che si borde la coda vediamo di farne un circolo virtuoso e di cominciare dal fatto che A. dobbiamo dare come giustamente si dice come ha detto anche Eugenio valore al nostro lavoro per dare valore al nostro lavoro bisogna riempirlo di contenuti che in parte già ci sono e in parte a mio giudizio vanno implementati dopodiché a questo punto siamo a mio giudizio ancora più legittimati a credere al cliente di riconoscerci questo valore e a lavorare insieme affinché lo conosca a noi e direttamente dal cliente e magari voglio dire le concessionarie faranno un piccolo sconto al cliente visto che non hanno più da produrre appunto revenue a favore dei centri media tutti voglio dire dobbiamo a mio giudizio contribuire a trovare una modalità per cui insieme alla trasparenza ci sia la convenienza per il cliente di scegliere un'agenzia la convenienza o comunque un fattore di business per l'agenzia di produrre un proprio autonomissimo e vincolato solo appunto al rapporto con il cliente prodotto consulenziale quindi una modalità che per te dovrebbe escluderli i DN una modalità che attendere non preveda più i DN però attenzione, voglio essere chiaro oggi non è possibile è possibile nel momento in cui appunto c'è un'altra modalità di rapporto un'altra qualità probabilmente di consulenza più qualitativa ancora non a caso tutti parliamo di consulenza la consulenza prevede appunto un unico cliente in questo senso e quindi ci dobbiamo arrivare io sono fiducioso spero che appunto proprio questo anche clima e questo programma così espresso vada in quella direzione lì sicuramente questo sarà anche uno dei temi che saranno sul tavolo nel confronto tra socomunicazione e l'UPA esatto perché è appunto clienti a socomunicazione e perché no io credo che le concessionarie in questo senso prima o poi debbano essere coinvolte come parte integrante e voglio dire di questo sistema mentre spesso voglio dire sono state considerate come dire poi semmai dopo che troviamo un accordo con gli utenti ne parliamo invece no dall'inizio tutti e spero sia nell'ordine del giorno delle prossime degli prossimi incontri e delle prossime tavole bene nella speranza di rivederti qui tra 30 anni intanto voglio dire Monti ci obbligherà a farlo facciamo gli auguri e i complimenti a Gianfranco Piccolo e lo salutiamo per ADV Express è tutto Salvatore Sagone a a a a Grazie a tutti.